Ecco, sono sempre Luca Damiano, il Pornosauro, e vi voglio raccontare una storia, le varie storie sulle varie attrici che io ho rincontrato. Per esempio, la più importante per me è stata Lollipop, sicuramente, e adesso poi è un momento d'oro per lei, è la testimonial di Pronto TV, di Super Kimpa Channel, con tutti i suoi film, ma anche con la Fiorentina, e quindi sta su tutti i giornali, è una ragazza veramente in gamba. E poi, soprattutto, fra tutte le pornostare che ho conosciuto, due sole erano attrici. Lei, perché il suo padre è stato uno dei fondatori della compagnia di doppiaggio più importante, il nonno è un attore famoso degli anni 30, quindi lei ha un background di attrice vera che ha messo nei film porno, e quindi è l'unica attrice di film porno che ha veramente un'abilità di artista enorme, oltre a mili da braccio, di cui poi parleremo a parte. Ma adesso parliamo di Lollipop, è il suo momento d'oro, sta benissimo, a parte qualcuno che ha messo in giro strane voci su di lei, invece sta benissimo, facciamo sempre il test a tutte e due e tutto quanto, quindi è in grandissima forma ed è la testimonial di Conto TV e della Fiorentina, e quindi sta su tutta la gazzetta dello sport, su tutto l'Espresso, su tutti i giornali di tutto il mondo, come prima porno star testimoni di una squadra di calcio. Sono molto contento per lei, con cui ho un'amicizia di vecchia data, insieme abbiamo fatto film come Lola e il Professore, che era poi la remake dell'Angelo Azzurro, in cui io, oltre a essere regista, interpretavo anche il ruolo del professore che piano piano si autodistruggeva nell'amore per lei, per questa Lola, che poi in fondo aveva delle cose vere, perché io e Lollipop abbiamo vissuto insieme, abbiamo avuto una, come si dice, apertura amicizia per sei anni e quindi insieme abbiamo vissuto molte, molte cose che c'erano poi anche nel film.